Buongiorno, ieri stavo sfogliando il giornale GNCI, una delle più importanti riviste in campo oncologico, e mi ha colpito questo articolo del gruppo di Hoffman, che stava cercando di studiare la correlazione tra l'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche, i cosiddetti FAS, e il rischio di alcuni tumori, in particolare il tumore renale. In questo nuovo articolo appena pubblicato, Hoffman e colleghi dimostrano che le persone che sono esposte a questi FAS hanno un rischio del 70% superiore di sviluppare un carcinoma renale, renal cell carcinoma, rispetto a chi non è esposto a queste sostanze, si vede praticamente che c'è un rischio di 2,6 volte superiore in coloro che hanno un'esposizione maggiore rispetto a coloro che hanno un'esposizione minore. Perché ho voluto segnalarvi questo articolo? Perché queste sostanze, al di là degli scandali che sono successi, per esempio in Italia, nel Vicentino, a Trissino, c'era questa industria che produceva queste sostanze e sembrerebbe, da quel che si legge sugli articoli, ci sono due delle cause in corso, che queste sostanze sono state sversate impropriamente nelle falde acquifere con un potenziale danno per diverse popolazioni che vivono nei comuni di quella zona, sia nel Vicentino che nel Padovano, che nel Veronese, e ci sono, ripeto, per quel che ne so, in corso delle indagini della magistratura. Ma al di là di queste contaminazioni industriali, ad esempio nelle zone prossime a aeroporti in cui si usano queste schiume che usano i pompieri per spegnere i fuochi che sono ricchi di questi FAS, sappiamo che tutti i giorni possiamo essere a contatto con queste sostanze specialmente se usiamo alcuni prodotti. Quindi è importante sapere quali sono i prodotti che sono stati, sono ricchi di questi FAS. E come vedete qua, in particolare ci sono tutto il pentolame non aderente, può contenere questi FAS, quindi è importante quando acquistiamo queste pentole di chiedere, di informarci se lo strato non aderente è stato prodotto utilizzando questi FAS. Se così fosse meglio non acquistare questo pentolame, esistono adesso delle pentole non aderenti che sono prive di queste sostanze, quindi chiediamo, informiamoci. Esistono vari capi di abbigliamento, soprattutto quelli che sono waterproof, resistenti, che ci tengono praticamente lontano l'acqua, che possono contenere questi FAS e quindi informiamoci quando acquistiamo questi prodotti, questi durable water repellent induments e praticamente sappiamo che un'altra categoria di prodotti che contengono questi FAS sono tutti i vari contenitori dei fast food, oppure altri, altro materiale con cui si avvolgono i sandwiches, i contenitori del popcorn che vengono messi nel microonde, insomma informiamoci, attenzione, che alcuni di questi materiali possono contenere questi FAS. quando andiamo acquistare tappeti o divani, poltrone, anche lì questi FAS vengono utilizzati in alcuni prodotti, non in tutti, per ridurre il rischio di per evitare che questi tessuti vengono, si possano macchiare, quindi anche lì informiamoci se i prodotti che acquistiamo contengono questi FAS, se fosse così evitiamo di comprarli e infine ci sono vari prodotti cosmetici, addirittura anche alcuni tipi di filo interdentario che contengono questi FAS. di nuovo chiediamo, informiamoci, quando acquistiamo prodotti informiamoci, ora avete un nuovo strumento senza allarmismo, fate delle scelte oculate quando acquistate prodotti e chiedete sempre se contengono questi FAS. con questo vi saluto e vi ringrazio, alla prossima.